Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Risolvere il puzzle della procrastinazione di Tim Pitchell, un professore molto famoso che ha studiato e svolto ricerche su questo tema per oltre 40 anni. In questo libro lui presenta i dati e gli spunti da cui partire per risolvere questo problema. Cominciamo subito con questo breve riassunto. Pitchell comincia spiegando il problema e le sue ripercussioni. Secondo lui la procrastinazione è un problema molto grande. Pitchell parte proprio da questo punto per sottolineare che non bisogna pensare alla procrastinazione come a qualcosa che non ha ripercussioni nella nostra vita. La procrastinazione non tocca solo un aspetto specifico della nostra vita. Se non riuscite a spedire qualcosa in tempo, questo problema si rispecchierà anche in altre parti della vostra vita, come relazioni, denaro, salute, eccetera. Secondo gli studi svolti da Pitchell, i procrastinatori hanno solidamente una pessima salute. Uno dei motivi è lo stress che la procrastinazione provoca. E inoltre chi non presta attenzione alla procrastinazione non riesce a formare buone abitudini alimentari. Perché diventa sempre difficile resistere alle tentazioni. Il piacere di mangiare un hamburger in questo momento è più grande della salute che potreste avere se non lo fate tra dieci anni, non mangiando mai un hamburger e facendo sempre allenamenti. Avreste un corpo molto più sano, anche scolpito, però il piacere di un hamburger in questo momento è più grande del sacrificio e degli sforzi che dovreste fare per raggiungere un obiettivo ancora più grande, ma in futuro. La procrastinazione crea rimpianti, così come nel caso in cui perdiamo una persona importante per noi, con cui avremmo voluto passare più tempo o stare più a contatto, anche nel caso della procrastinazione finiamo per avere rimpianti per non aver raggiunto i risultati sperati durante la nostra carriera, per non aver prestato maggiore attenzione alla salute, eccetera. Questi aspetti creano insoddisfazione e ulteriore stress, specialmente durante la vecchiaia quando si va a vedere quello che si è potuto fare ma che non si è riuscito a fare. La procrastinazione sabota la nostra felicità, se non fate quello che sareste in grado di fare non sarete mai felici. Se fate o raggiungete o ottenete meno del vostro potenziale, meno di quello che potreste ottenere, non sarete mai felici. La felicità si ottiene puntando a raggiungere il vostro potenziale massimo, quindi diventando la miglior persona che potete diventare. La procrastinazione è una questione emotiva, non facciamo le cose che dovremmo fare perché c'è una sorta di blocco emotivo che non ci consente di farlo. Ci può essere la paura o il dubbio di non essere abbastanza bravi. Dovete scovare questa paura o dubbio che vi blocca dal fare quella cosa e spesso prendendo un foglio di carta e scrivendo i propri pensieri a riguardo aiuta a fare chiarezza. Una volta determinato il problema si può anche risolvere, però se non ne siete consapevoli non riuscirete a fare nulla a riguardo. La motivazione non è un prerequisito per l'azione. La maggior parte delle persone pensa che bisogna avere voglia di fare qualcosa per cominciare a farla, ma secondo Pitch non è così. Succede praticamente a tutti di non aver voglia di andare a lavorare. Dobbiamo capire che se ci fermiamo questo ci bloccherà dall'avere il tipo di vita che vorremmo avere. Per risolvere il problema bisogna risolvere la questione dell'identità a cui voi vi associate. Se vi identificate come una persona che non porta nulla a termine, che non ottiene risultati, che non è abbastanza brava, questo vi ostacolerà continuamente e aumenterà la vostra procrastinazione. Se siete studenti e non avete voglia di studiare, dovete toccare questo tasto dicendo a voi stessi sono uno studente, questo è quello che faccio, io studio, devo studiare, devo continuare a superare gli esami per ottenere la laurea. Io sono un buon marito, per questo passerò più tempo con la mia famiglia. Io sono attento alla mia salute, per questo non mangerò la pizza ogni sera. Cercate di approcciare qualsiasi area della vostra vita in cui avete problemi con la procrastinazione come se foste un professionista o esperto in quel campo. Pensate e agite come tale e acquisirete maggiore voglia di agire, maggiore consapevolezza e anche maggiore motivazione. Rafforzare l'intenzione dell'obiettivo. Questo è un aspetto molto interessante del libro, è una delle soluzioni alla procrastinazione. Se quello che fate è diretto da un vostro obiettivo, da quello che voi volete raggiungere, per i vostri interessi personali, questo vi aiuterà a combattere facilmente la procrastinazione. Se lo fate per qualcun altro, per motivi che non sono davvero forti per voi, che non hanno un grande impatto sul modo in cui vi sentite, allora vi sarà difficile risolvere il problema. Se volete studiare e non siete motivati, ma il vostro obiettivo è la laurea, allora provate ad essere creativi. Mettete come salvaschermo del vostro computer la foto della vostra università o una foto della pergamena di Laura in cui c'è il vostro nome. Si può fare facilmente con Photoshop o Photo Editor e questo vi aiuterà a risolvere il problema perché ogni volta che vedrete quella foto sarete motivati dall'obiettivo e ogni volta che accenderete il computer invece di passare del tempo sui social vedrete la foto e questo vi motiverà a studiare per ottenere quell'obiettivo. Secondo l'autore a volte anche guardare un film potrebbe aiutare, ad esempio, un film d'azione per motivarvi ad andare più spesso in palestra o seguire influencers che danno consigli a riguardo, eccetera. Infine l'attuazione dell'intenzione. Questo riguarda la formazione delle buone abitudini. Automatiche. Cosa significa? Vi faccio un esempio. Potete dire a voi stessi Mentre il computer si accende farò delle flessioni. Mentre preparo il caffè berò un bicchiere d'acqua. Mentre mi sdraio sul divano comincio a completare la parte del lavoro che non ho svolto durante la giornata avendo il computer lì vicino. E questo aiuta a formare semplici e buone abitudini quotidiane che aumentano la vostra motivazione e vi rendono più organizzati e produttivi. Mentre mangiate un pezzo del vostro cibo dolce preferito o mentre bevete la vostra bevanda preferita comincerete sempre a studiare per l'esame che non avete passato. Potete farlo già all'inizio della vostra giornata mischiando cose belle e brutte tra virgolette, quindi cose che non vorreste fare che non siete motivati a fare come ad esempio la mattina mi prenderò il caffè e poi subito dopo ascolterò un video del mio youtuber preferito quindi cose che mi piacciono poi comincerò a studiare oppure la collegate alla fine della giornata appena finisco il lavoro andrò direttamente in palestra. Si collega quindi la procrastinazione a qualcosa di piacevole che fate spesso e anzi quotidianamente e che potete associare al compito che vorreste svolgere meglio. Quindi in questo modo non solo sarete più incentivati a cominciare a fare quella cosa perché solitamente quando facciamo quello che ci piace ci sentiamo bene e quando ci sentiamo bene possiamo anche fare cose che non ci piacciono come ad esempio andare in palestra, studiare, eccetera. Mentre se vi sentite giù di morale e dovete studiare che è una cosa spiacevole per voi sicuramente non comincerete a farlo. Quindi associando questi eventi si aiuta a combattere la procrastinazione e ovviamente si ottengono anche risultati migliori. Questo era un breve riassunto del libro Come risolvere il puzzle della procrastinazione di Timothy Pitchell. Ho cercato di concentrarmi solo sugli aspetti più interessanti e più utili del libro. Ovviamente se leggete il libro ci sono innumerevoli esempi a riguardo. Finora ho visto che c'è solo la versione inglese non so se nel frattempo l'hanno tradotta anche in italiano però comunque se parlate l'inglese potete comprare il libro in lingua originale oppure potete semplicemente basarvi su questo riassunto. Questo è comunque un libro che spiega come risolvere il problema della procrastinazione per vivere una vita più sana, felice e significativa perché collega la procrastinazione non solo al lavoro ma anche alla salute, alle relazioni, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nel prossimo video. Ciao!